E' stato presentato a Cosenza nell'ambito della seconda edizione del premio per la cultura mediterranea della Carical, il film Vergine Giurata, candidato all'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2015, come unica pellicola italiana in concorso e prodotto dal catanzarese Gregorio Paonessa. E' la storia di una Vergine Giurata, ossia di una creatura a metà, sono queste donne che vivono sulle montagne del nord dell'Albania, che in una società che è completamente nega i diritti alle donne, i diritti più semplici, i diritti più importanti, per cui secondo la legge del Kanun, che è la legge di queste montagne, le donne possono diventare uomini, quindi avere tutte le libertà che altrimenti spetterebbero solo agli uomini. Però devono fare un giuramento, devono dare la loro parola e giurare castità. La pellicola è ispirata al libro della scrittrice albanese Elvira Dones, un racconto struggente per il quale la Fondazione Carica l'ha assegnato alla Dones il proprio premio di sezione per il 2015. La Fondazione Carica, l'è stato detto nel corso della serata delle premiazioni, ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare artisti e intellettuali che abbiano conseguito risultati di eccellenza nel cinema e nella letteratura. Un modo è stato spiegato per riconoscere all'arte in genere e al cinema in particolare una grande funzione di rilancio della letteratura in un momento in cui purtroppo non si legge molto. Noi sette anni fa premiamo la scrittrice albanese Elvira Dones proprio per questo romanzo, La Vergine Giurata. Fu una scelta felice anche perché affrontava ed affronta un tema di grande attualità. Noi d'altra parte come Fondazione Carica di Risparmio siamo proprio da anni impegnati nel cercare di fare e dialogare questi due mondi, quello della letteratura e quello del cinema, le cui interconnessioni sono molto importanti perché il cinema influenza anche la letteratura e viceversa.